ciao ragazze come state? niente ragazze facciamo tanti suoni con pastelli, penne in gel, pennarelli, evidenziatori, penne, relax ciao ragazze qua ho messo dei filofax, nera, blu, rossa queste qua ragazze, la tratto, queste qua, però l'hanno cambiata, rossa e questa qua ragazze, scrivono benissimo poi tengo, ah, poi tengo una nira, tengo una nira, e ne tengo un'altra da la, la trasquida nira che bellissima che bellissima questo ragazzi è il blocchetto del tutorial di ieri che questo va venerdì sera qua c'ho questi, non lo so dove stanno i tappi, ne tengo due, mettiamoli qua questi qua le ho presi dal cinese ma ci manca qualche colore allora ci sono alcuni che scrivono bene, 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 altri no allora per esempio allora la russa allora la russa scrive benissimo, è proprio scorrivole, troppo bella è bellissima questa come scorre questa qua con lo carne non mi piace cioè è più forte quando scrivi, non è scorrivole come questa la russa è marrone, gialla, la stessa russa è più forte quando scrivi la rilla scrive bene la rilla molto scorrivole bella la verde mi sembra no la verde ma è più fatica questa è scorrivolissima questa la russa è scorrivole troppo bella questa è scorrivolissima bella questa vedete come scorre molto quindi ci sono alcuni che scrivono scorrivoli altre no anche la nera è molto scorrivole guardate molto scorrivole quindi io l'avevo pagato e mi pare un euro e cinquanta dal cinese sono molto buone con me sono buone queste pende quante cose dobbiamo vedere perché stavo mettendo in ordine ragazze ho detto faccio il video con le ragazze che a voi vi piace questo suono da me e li metto qua poi i pastelli i pastelli sono un po' fischiati di varie marche allora questo giriamo il foglietto allora giriamo il foglietto allora perché c'erano i pastelli che ti voglio invelare allora questa è la punta c'è è un pastello allora ragazzi poi poi questa è la punta facciamola un pochino eccola allora questa è il zucchero di canna bello quel blu tipo tipo zucchero di canna qua la punta c'è questo è questo ragazzi è blu notte è un blu un po' più scuro di questo bello questa non c'è poco più la punta ma questi saranno pastelli che non erano chissà come non erano tanto buone ecco questo è un semplice giallo poi questo ragazzi non ho capito che colore è mamma mia che punta ho fatto questo questo è colore e che colore è? mi spesso è di rosso questa c'è la punta marrone ah no non è marrone è borgogna questa questa facciamocela un po' questo è lì questo blocchetto allora ragazzi lo usiamo per i colori quando faccio questi video che belli i pastelli sono bellissimi questi mi seguono la piatta per colorare i mandala quando faccio smr mi viene sempre la giusta allora allora questo ci sa una specie di borgogna come questo questa c'è la punta questa è un'altra tipologia di viola questo è un altro marroncino marroncino un po' più chiaro qua c'è questo è verde più com'è bello questo verde bellissimo no vabbè ragazzi che bel suono che fa la madita adoro bello poi grigio no vabbè ragazzi che belli giallo un altro giallo questo è un giallo la latte più forte di questo no bello questi cosi asfratti poi a quanti pastelli ce l'avevo poi nero vabbè bianco è inutile che non si vede verde quest'altro verde ora devo togliere il coperchietto ma non ce la facciamo ora che punta questo è un altro tipo di verde questo è un altro tipo di verde ok un altro borgogna un altro borgogna salmone ok 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 questo è un altro borgogna questa è una mezza schifezza qui se non c'è bisogno il marrone abbiamo fatto un arcobaleno abbiamo colorato tutti i colori e niente allora queste le mettiamo nella coscetta per disegnare i mandala ok poi 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 pinnicella azzurla si sta sgariando E' sta scaricando questa bella viola Grizza, ve li dico dopo, verde, viola Grizza, ve li dico dopo 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 Poi Non mi piacciono Brutti Belli Lilla E' il mio colore dell'ASMR Rosa E' il mio colore Ora Ecco Ecco E' il mio colore 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 E' il mio colore